Maledetta cammino via, funzionerà prima o poi! Basta trovare quel maledetto fusibile! Gli idioti non sono ancora riusciti a far funzionare questa stazienda! Avanti figliolo! Troviamo quel fusibile! Sbarazzati di questi buffoni, io darò istruzioni a Josh! Ehi! Avete visto la chiave del magazzino? Ce l'ho, Neil! Sbarazzati! 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 Oh Tutto sistemato Jones ci sta aspettando là sotto Usciamo di qui Hai sentito? No, apri Tirate alla tazza! Oh Oh A Inserisci il possibile Non è possibile fai partire questa carretta, poi tagliamo la porta. Vieni qua ragazzo, ho un regalo per te. Attento, dietro di te. Sono tornati. Tieni, non ci lasceranno andare via facilmente. Tieni, non ci lascerai. Tieni, non ci lascerai. Tieni, non ci lascerai. Tieni, non ci lascerai.